Attimi di paura nella mattinata di ieri in via scavate case rosse al confine fra Salerno e Ponte Cagnano-Faiano. Un uomo di 70 anni ha sparato due colpi alla gamba del nipote con la sua calibro 38 al culmine di una violenta lite nata per cause ancora in corso di accertamento. L'uomo, dopo aver commesso il fatto, si è costituito presso la stazione dei carabinieri di Ponte Cagnano-Faiano. Sul posto si sono recati i carabinieri della Compagnia di Salerno per avviare le indagini del caso e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Solo una ferita lieve per il nipote dell'uomo giudicato guaribile in 20 giorni dai medici dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.